Salve, ben arrivati a questo appuntamento nuovo con una grandissima scrittoria, molto popolare in tutto il mondo, questa volta abbiamo il piacere di salutare una scrittrice tedesca, Charlotte Link, i suoi romanzi sono venduti in tutto il mondo, numeri stratosferici, si parla di 30 milioni di copie, i suoi romanzi sono stati tutti, sono una ventina circa, tutti trasposti al cinema, anzi per la precisione film per la tv tedesca, è una scrittrice quindi che ci si riserverà grandi sorprese, noi la conosciamo grazie a Corbaccio che ha pubblicato, che ha tradotto il suo ultimo libro, senza colpa, questo è il libro, e di questo libro abbiamo chiamato a parlare con noi un'amica del festival, una cara amica del festival che ho piacere di salutare, Alessandra Casella, che è collegata credo con noi. Saluto, io ti qua. Grazie, ed ecco anche Charlotte Link, hi Charlotte, thank you for being with us. Thank you for inviting me. Grazie Alessandra, io siccome Alessandra è una presentatrice inimitabile, è anche insuperabile, non oserò dire nemmeno una parola su Charlotte Link, perché lei ce lo farà scoprire con la sua competenza e la sua grazia che conosciamo. Intanto, buona conversazione e insomma ci rivediamo dopo, quando avete finito di chiacchierare, per i saluti finali. A dopo. Benissimo, ti ringrazio tanto Marina, grazie per avermi ancora una volta al Noir in Festival, che sai che è uno dei miei luoghi dell'anima. Parliamo di Charlotte Link. Non dobbiamo chiedere in Germania chi sia Charlotte Link, perché la conoscono tutti, è una vera superstar della letteratura, è una persona in cui i romanzi, che prima erano solo romanzi letterari, in seguito sono diventati di genere thriller, ma in ogni caso, ogni volta schizzano in altissimo, nella classifica ai primissimi posti, ed è amatissima in Germania. Non possiamo chiedere chi è Charlotte Link, neanche nei tantissimi paesi in cui è stata tradotta. In Italia, solo in Italia, dove nessuno legge ha venduto più di un milione di copie. È davvero una scrittura molto amata e ci sono dei motivi per cui è così amata. Però se non possiamo chiedere in Italia, non possiamo chiedere all'estero chi è Charlotte Link, io vorrei chiederlo direttamente a lei. Chi è Charlotte Link? Also das eine ist natürlich die Charlotte Link, die Romane schreibt und Krimis schreibt und da bin ich ja gerade schon sehr, mit sehr großartigen Worten vorgestellt worden. Und daneben bin ich, ja, eine ganz normale Frau, die in Deutschland lebt, in Wiesbaden, das ist in der Nähe von Frankfurt, ich lebe hier mit meinem Mann, mit unserer 19-jährigen Tochter, ich habe noch einen Stiefsohn, also einen Sohn aus der ersten Ehe meines Mannes, der in Berlin lebt und ich habe drei Hunde, die alle aus dem Tierschutz kommen und die ja hier mit uns im Hausleben und ja, ich habe, ich schreibe jeden Tag, das ist für mich eine ganz normale Arbeitszeit, so wie andere Menschen auch zum Arbeiten gehen, so gehe ich jeden Morgen an den Schreibtisch und schreibe meine zwei Seiten im Computer und das mache ich seit inzwischen 40 Jahren. Questo Senza Colpa è il terzo libro di una serie la cui protagonista è Kate Linville. Ricordiamo che Senza Colpa oltre a essere edito da Corbaccio è anche tradotto e anche bene da Alessandra Petrelli, ricordo sempre i traduttori perché sono fondamentali per la buona riuscita di un libro. Senza Colpa è il terzo volume, l'inganno era il primo, la palude il secondo e questa Kate Linville per la prima volta con l'inganno, nel libro l'inganno, è protagonista. Ma in realtà, Charlotte, lei non nasce nel libro l'inganno, nasce un po' prima, vero? Ja, das stimmt, das merkt nicht jeder, weil Kate in einem Buch davor, das hieß Der Beobachter, tatsächlich schon aufgetaucht ist in einer ganz, ganz kleinen Rolle. Ich habe sie gar nicht geplant für dieses Buch, sondern die Handlung hat einen bestimmten Verlauf genommen und ich brauchte eine Polizistin, die bei Scotland Yard arbeitet und bestimmte Informationen nach draußen gibt. Und da habe ich sie erfunden, von einer Minute zur anderen und ich dachte, sie wird nur eine ganz kleine Nebenrolle haben, zwei Seiten in dem Buch. Und als ich sie beschrieben habe, begann sie mich so sehr zu faszinieren und so zu interessieren. Und ich habe ein großes Potenzial in ihr gesehen und da habe ich zu ihr gesagt, ich werde aus dir irgendwann noch mal eine Hauptrolle machen, und du bist interessant. Und das versprechen habe ich gehalten und ein Buch später in Die Betrogener hatte sie die Hauptrolle und sie hatte sogar die Titelrolle. Personalmente, mi piace molto questo fatto che lei abbia scelto questa protagonista, perché non è un caso che Kate sia nata trasversalmente. È una che non vuole stare nel centro del palcoscenico, è una persona così banale nell'aspetto fisico, in un'epoca in cui l'apparenza è tutto, lei è goffa, è timida, è appunto non la si nota neanche, non la si vede neanche. Nonostante una mente davvero acuta, nonostante soprattutto una visione laterale, che è quella che le permette di vedere cose che gli altri non vedono, di risolvere con la sua attenzione e con anche la sua volontà di arrivare in fondo alle cose e non fermarsi all'apparenza, che la rendono davvero unica. Però scegliere un personaggio così, così timido, così disassato, se mi permettete il termine, rispetto alla scena principale, soprattutto in un mondo che è quello della polizia, che è un mondo maschile, governato da regole maschili e spesso vediamo che letterariamente, ma anche cinematograficamente, le detective, le poliziotte sono sempre comunque tormentate, ma toste, durissime, in gran forma. Così non è per Kate Linville ragione che me la fa amare, ma non deve essere stato facile usare un personaggio così all'interno di una storia gialla, di un thriller. Io c'è la questa persona, che è stata già da una fiducia più, che è stata risposta, come si è stata un risposto anche. Una Frau, che è stata molto assidenda, molto risposta, che è una bloglia tranquilla, chiede a una persona che ci sia stata molto amace di un'integro della occupazione. La c'è la scena di scena, che è vengan초 a molto molto grande e dubi, di chi si è a una specifia. si sono viele delle le ragioni con cui identifiziamo perché abbiamo sempre sempre ho troduto più più meno come se pensano qualcosa funziona ma sono ecco ma i i pensano i ah i ho luk e i i i La situazione sono buono, ma si è molto forte, e Kate è molto più grande. Ma la parte della medaglia è di questa stessa di queste due e ha un po' di spazio, ha un po' di spazio, ha un po' di spazio, ha un po' di spazio ho un intuizion, ma che ha il tema del romanzo. Senza colpa. C'è un inizio, pam, deflagrante, poi pam, un secondo inizio deflagrante, poi pam, un terzo inizio deflagrante. Siccome io so che parlare di thrillere una camurria, perché non vorrei fare il giveaway, cioè raccontare troppo, io me ne lavo le mani ampiamente e chiedo a Charlotte Link la cortesia di parlare, raccontare in poche parole il tema del suo romanzo. Poi entreremo all'interno. Però lascio la patata bollente a lei. In il cuore del libro c'è un uccidio di questo verbrechen. So viel kann ich auch verraten. Und da die Tat, da das Problem, wenn eine Mutter ihr eigenes Kind nicht wirklich annehmen kann und davon überfordert ist, ist ein Tabuthema. Sie kann sich keinem Menschen damit öffnen und dadurch wird das Problem für sie immer schwerer. Sie kann nicht mal ihrem eigenen Mann wirklich davon erzählen. sie begeht diese schreckliche Tat und daraufhin versucht ihr Mann das zu vertuschen. Und es gelingt ihm auch. Die Familie lebt unbehelligt weiter mit dieser großen Schuld, die unter den Teppich gekehrt ist. Und viele, viele Jahre später stellt sich heraus, dass es Menschen gibt, die davon wissen und die versuchen, das Gesetz auf eigene Faust in die Hand zu nehmen. Das ist ungefähr das Thema von ohne Schuld und ohne Schuld eben auch deshalb weil ich finde, dass diese Frau, diese Mutter nicht im strafrechtlichen Sinne schuldig ist. In realtà, una cosa che io apprezzo molto nella tua scrittura è proprio questa. Partiamo dal presupposto che senza, tu parli spesso dei deboli bambini, le donne, i disabili, i vecchi che sono spesso vittime, ma nei tuoi romanzi la colpa ha confini molto labili e spesso e volentieri le vittime non sono mai solo vittime. E un'altra cosa che ho molto apprezzato che tu abbia sottolineato un tema importantissimo che riguarda è egoistisch weil und ich weiß leider auch wovon ich spreche depression eine depression zu durchleben und auszuhalten kostet alle kraft die man hat es bleibt praktisch überhaupt nichts an kraft mehr übrig für irgendetwas anderes als für diese depression man kann nicht mehr an andere denken für andere da sein und das macht einen zu einem menschen der nur noch eigentlich nur noch versucht sein eigenen kopf über wasser zu halten und das ist eine form von egoismus aber nicht dem ist nicht auszuweichen in dem moment la cosa curiosa che pur essendo un thriller che si divora sono più o meno 400 pagine ma te leggi in due giorni me lo sono di questo quello che però succede dopo che hai letto il thriller è che i personaggi e le storie di cui raccontato i problemi che affrontato charlotte link nello scrivere il romanzo continuano a lavorarti dentro e affronta tanti temi importanti affronta il tema della violenza in famiglia affronta il tema della depressione come abbiamo detto della violenza sulle donne della disabilità dell'alcolismo perché uno dei due protagonisti è vittima pesantemente vittima caleb dell'alcol tutti questi echi che lei ti fa risuonare dentro raccontando una storia continuano lavorare dentro di te la cosa che però sta sotto tutti come un basso continuo in musica è la solitudine tutti i personaggi a partire dai protagonisti sono soli e anche rapporti tra di loro vengono in qualche modo viziati da questa bolla di terribile claustrofobica solitudine che li chiude al loro interno oltre video perché sono solo insieme, ma ci sono anche insieme in Partnerschaften. Come Alice e Oliver hanno una famiglia e tutti i due stessi sterbensale in questo buch. Ci sono molte tipi di insieme 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 di insieme. Così è insieme di insieme di insieme di insieme di insieme di insieme. situazioni, come si sono avuto un'unice da direncola che non sono in questo caso, perché i loro non sono proprio non sono riusciti e in questo caso. E io l'amore, che la mia Cosa è l'unica, che ci sono anche un'unico, che ciò che ciò ha più angstato come la corsa, l'unica è un tema. E quindi ciò che in questo libro ciò che ciò che è passato, sogar von dem schlimmen Ian Slate, diesem schlimmen Psychopathen, irgendwo im Kern verbrechen die aus Einsamkeit heraus entstehen. Maestro nell'arte, sia del depistaggio, vi abbiamo detto dei tre inizi diversi, che poi vanno ricollegati insieme, ma devi farlo leggendo. Lei è talmente brava che riesce ad usare degli escamotage letterari come quelli della voce che entra dentro nel romanzo parlando in prima persona, che noi ormai ci siamo abituati a questa cosa, ma non è esattamente quello che potrebbe essere, che sembra essere, vedrete solo leggendo. I suoi finali non sono mai scontati e spesso non sono neanche happy ending, non vi dico sequoia in altri, lo scoprirete solo leggendo, però sicuramente è diabolica nel tenere il lettore appeso alla parola, quindi da un lato una grande introspezione, una cura enorme dei personaggi, e dall'altro lato però il ritmo serratissimo di un thriller all'americana. È forse questa la via europea al thriller? Sì, è una cura di essere molto 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 piaciuto, anche in quanto riguarda l'amore, in quanto riguarda l'amore, anche in quanto riguarda l'amore, anche in quanto riguarda l'amore della risposta. Grazie a tutti. Il Noir in Festival è un festival che è insieme letterario e cinematografico, il noir visto da entrambi i punti di vista, e con Charlotte Lynx è fatto bingo, perché lei è una scrittrice di thriller e nello stesso tempo ogni libro che scrive finisce sullo schermo o sul piccolo schermo. Lei evidentemente sarà consapevole di questo fatto, che ogni parola, ogni scena potrà poi trovare una seconda dimensione come film o come telefilm. È qualcosa questa consapevolezza che ti lascia in qualche modo, che lascia una qualche influenza sul tuo modo di scrivere, oppure quando scrivi sei completamente distaccata dall'idea di che cosa succederà poi a quello che racconti? Io ho visto anche in ogni libro che scrive inzwischen già, che è stata spiegato perfilmata, perché mi lavoro con una Berlina Filmproduzione con me lavorare, che mi ripeto tutte le mie libri spiegate. ma io ho provato non d'interno io ho provato di un'ottere la sua immagine quindi cosa è un'ottere il Verlag e cosa è una filmesista come si è pianto in due romani avevo un'ottere la sua immagine total di un'ottere 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 con il'ottere l'interfluten lassen und einmal ist ein Haus abgebrannt und beides war ganz, ganz schwer im Film darzustellen und hat furchtbar viel Geld gekostet und mir sagte der Produzent, ob ich nicht ein bisschen darauf aufpassen könnte, dass das nicht so teuer ist, was ich schreibe, wenn es dann umgesetzt wird und ich habe ihm aber gesagt, nein, ich kann darauf nicht aufpassen, weil ich beim Schreiben komplett bei mir sein muss und das so machen muss, wie ich es denke und wie es sich für mich entwickelt und wie es sich aus den Figuren entwickelt. Deswegen blende ich das aus und deshalb bin ich am Schluss immer kosten meine Filme immer zu viel Geld. Ich schreibe das Drehbuch nicht selbst, aber ich bin beteiligt. es schreibt ein Drehbuchautor, aber wir sind immer in Abstimmung miteinander und ich bekomme die jeweilige Fassung und überarbeite es dann nochmal und das Lustige ist immer, dass der Drehbuchautor will ganz genau mein Buch so im Film haben, wie ich es auch geschrieben habe und ich sage immer, es sind zu viele Figuren für einen Film, es sind zu viele Handlungsstränge für einen Film, wir müssen das raustun, das raustun, das raustun, wir müssen Figuren wir müssen vieles umbauen und er sagt es, ich bin die einzige Autorin, bei der es so rum ist, weil normalerweise wollen die Buchautoren, dass alles genauso ist wie im Buch, aber in meinem Fall will ich, dass alles anders ist als im Buch, weil ich glaube, dass man ein Buch nicht einfach in einen Film übersetzen kann und umgekehrt. Das sind völlig verschiedene Medien und wenn ich ein Buch komplett so wie es ist in einem Film übersetze, wirkt es und funktioniert es nicht so wie als Buch. Ich muss mir eine neue, fast eine neue Dramaturgie ausdenken, aber das ist meine Meinung, mit der stehe ich immer ein bisschen alleine, aber ich glaube, dass ich da recht habe. Ich glaube, das große Problem bei Corona ist, dass wir, also zumindest meine Generation, wir erleben zum ersten Mal, dass die Welt die Kontrolle über etwas fast verliert. Ein Virus ist nochmal anders als ein Krieg. Es ist einfach, es ist ein Feind, den man nicht sieht und er breitet sich auf eine extrem heimtückische Art aus und die Regierungen unserer Länder, die italienische Regierung, die deutsche Regierung und alle anderen versuchen verzweifelt die Kontrolle zu behalten, aber sie sind immer wieder dicht davor, sie zu verlieren oder zeitenweise hatten sie sie auch verloren. In Italien in der ersten Welle im letzten Jahr und in Deutschland waren wir um die Weihnachtszeit so schlimm dran wie Italien im letzten Jahr. und das ist etwas, was mir und was, glaube ich, den Menschen sehr große Angst macht, dass da ein Feind aufgetaucht ist, den wir nicht sehen und den wir kaum kontrollieren können. Und viele sagen, es ist nur der Beginn von etwas. Wir werden immer wieder solche Pandemien haben, weil wir, also das sind ja hauptsächlich SARS und Corona und Ebola, das sind Krankheiten, die sich von Tieren auf uns übertragen, weil wir den Tieren den Lebensraum wegnehmen, weil wir sie einfangen, weil wir sie auf Wildtiermärkten zusammen pferchen. Da kommt jetzt etwas auf uns zurück, da sind wir sehr wenig achtsam mit dem Leben um uns herum umgegangen und ich glaube, dass wir da ganz dringend etwas ändern müssen an unserer Art, wie wir leben. Und ich habe manchmal Angst, dass die Menschen das immer noch nicht wirklich begriffen haben. Ich glaube, absolut. Eine curiosität, aber ein Schriftstück jetzt ist, zu erfüren, auch letterärisch, ein Welt, das mit dem Coronavirus verändert hat. Lo metterai dentro nei prossimi romanzi oppure si continuerà a scrivere come se il coronavirus non fosse esistito? Perché è una sfida bella grossa questa. Perché io non voglio scrivere, perché io non voglio scrivere, perché io non voglio scrivere. Perché io non voglio scrivere, perché io non voglio scrivere, perché io non voglio scrivere. Perché io non voglio scrivere, perché io non voglio scrivere. È 30 anni che c'è, per cui spero ci sarà ancora. Sarà uscito il nuovo libro di Charlotte Link, che è una persona con cui è un vero piacere parlare. Ci ritroveremo ospiti, tutte e due, del Noirin Festival. E finiremo questa chiacchierata andandoci a bere un bel caffè tutti insieme. Lo spero tanto, perché è stato un grande piacere parlare con Charlotte Link e anche leggerla, soprattutto. E quindi saluto tutti e saluto Charlotte Link e gli do la parola a Marina Fabri. Grazie mille, grazie anche a me. E' stata una grande piacere per me. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, arrivederci.